bene trovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com con gente che ancora non ha capito che non deve sintonizzarsi sulla diretta mentre noi siamo in diretta ben ritrovati a tutti ciao ciao martina poletti ciao a tutti ciao a tutti ben ritrovati allora siamo un po in ritardo sulla tabella di marcia ma perché perché dovevo verificare le ultime due o tre cose è stata una giornata convulsa piena di eventi e tra l'altro ci sono ancora alcune aree grigie di questo calcio mercato invernale 2022 che andranno analizzate nelle prossime o nei prossimi giorni allora intanto saluto tutti quelli che ci hanno pazientemente aspettato in questi dieci minuti stefano stefano alessandro filippa elena mauro giorgio claudia gianna e tutti quelli che si collegheranno via via dobbiamo tenere conto anche del fatto che stasera stiamo facendo concorrenza a un sandro globale che è sandro sovrani non è di sport gli chiediamo scusa perché in genere non è il nostro stile però diciamo che ha fatto questa decisione per evitare di togliere scera sanremo che insomma si siamo detti ci siamo detti sono arrivate richieste per la puntata di lunedì dopo il mercato per il commento a caldo mercoledì a sanremo tanta gente sarà distratta dal festival l'eco del mercato comincerà già ad affievolirsi allora abbiamo detto vabbè facciamo un punto di lunedì sera nonostante io personalmente sia cotto perché ho passato tutta la giornata letteralmente dalle 9 fino ad adesso davanti al pc per provare a documentare questo dannato mercato devo anche comunque fare un elogio a tutta la squadra dello spallino perché noi tre tra gli altri ci mettiamo la faccia ma c'è tutta una squadra che durante la giornata ha lavorato ma veramente ha lavorato tanto facendo segnalazioni e recuperando informazioni bene ho parlato fino a fin troppo diciamo partiamo così leo leo tu rappresenti la linea scettica sul mercato ma sì perché commentavamo prima prima di cominciare e tu hai detto ok è un mercato da sufficienza ma non andiamo più in là sì esatto cioè allora intanto la scelta di questo sei diciamo che se bisogna dare un numero vuol dire da parte mia vuol dire che tutto sommato quello che doveva arrivare è arrivato e ci fermiamo lì nel senso che non è arrivato niente che faccia dire madonna che colpo che è stato a parte la parola colpo e fammi citare anche luca armare che oggi si è fatto veramente il mazzo e tra gli altri va ringraziato particolarmente diciamo che sì l'ho detto quello che doveva arrivare è arrivato serviva le lacune sono state colmate però diciamo che da una parte la i soldi che sono stati presi per la venta di sec e dall'altra i giovani della della delle giovanili insomma che sono andati via messi sulla bilancia con quanto di buono è stato fatto in entrata mi fanno dire che è un sei quindi il mercato è positivo però più di così mi sento di non dare ecco poi sicuramente ci sono state tante complicanze è stato difficile un mercato con pochi soldi perché comunque la situazione ancora quella che è però secondo me la situazione grosso modo grosso modo è questa qui tu polli cosa dici ma io sono abbastanza d'accordo con te e si è stata impegnata fino a due ore fa c'è la tua squadra del Fanta Sanremo vabbè ragazzi insomma ci sono anche delle priorità io il Fanta Sanremo l'ho fatto un mese fa praticamente quindi penso a quanto si è torniamo sul tema torniamo sul tema no dicevo sono abbastanza d'accordo no dicevo polli nella tua filter bubble cosa si dice dai nella mia filter bubble nella mia filter bubble si dice poco ok non si dice non si dice non si parla e dicevo forse la scelta che pesa un po' sul voto è anche quella di aver preso tutti i giocatori un po' più vecchi quindi l'età media della squadra si alza un pochettino quindi come mi sembra dicessi anche un nostro collega prima sulla discussione del gruppo c'è stata un po' la scelta di accantonare il progetto giovani che era partito a inizio campionato che sembrava dovesse essere la linea base e vedo anche dei commenti che comunque in molti stanno dando ragione a Leo e quindi direi che aggiungo solo una cosa al ragionamento che stavo facendo prima ossia che era il punto di partenza del 6 che in realtà mi sono dimenticato di dire ossia che facendo le somme alla fine del calcio a mercato oggi sono arrivati i giocatori funzionali sicuramente avallati d'avventurato che deve aver avuto un peso importante nelle scelte perché quasi tutti sono passati sui sgrinfi o comunque vicino a lui non è arrivato nessuna prima scelta o perlomeno noi non abbiamo i tacquini per usare un termine nuovo di Zamoner o di Tarantino però quelli che sembravano le varie prime scelte in Porta, Proia che poi vabbè è finito il Brescia, la Mantia oggi dopo che si è concretizzata l'opzione di SEC non è arrivato nessuna delle prime scelte il che non vuol dire che siano arrivati dei brocchi oppure giocatori non adatti oppure altro però insomma se nella se veramente tra le prime scelte c'erano quei giocatori che ho detto prima Falcone compreso allora va registrato che non sono arrivati quei giocatori lì ecco non è arrivata di nuovo ancora la punta che da tempo diciamo dato che abbiamo fatto un adesivo e ormai bisogna fare la rivisitazione perché ormai è vecchio, ha fatto la nuova versione. Tu Orla cosa dici? Allora dico che a me questo mercato comunque lascia una sensazione di soddisfazione parziale se devo parlare da tifoso ma poi ci devo attaccare anche ovviamente l'abito, ha detto i lavori perché è chiaro che la squadra è stata migliorata in funzione del suo obiettivo cioè quello di portare a casa la pellaccia quest'anno. Faccio notare una cosa che di otto giocatori che sono arrivati sei sono arrivati questo è il titolo definitivo. Questo è indicare che le risorse c'erano e soprattutto si è voluto ragionare in termini medio-lungo termini nel senso che sono state individuate aree della squadra che andavano migliorate e con un budget tutto sommato limitato si è detto facciamo queste operazioni in modo che a luglio probabilmente saremmo pronti ad avere un'intelaiatura un pochino più solida rispetto a quello che c'era un mese fa questo anche passando dal sacrificio di secco. Per quanto riguarda le prime scelte, le seconde scelte io continuo a pensare che il mercato non sia il mercato del lunedì o del venerdì nel senso che ci vai se ci sono le condizioni e se le condizioni coincidono con quelle di chi vende il prodotto nel caso di Lamantia tutto questo è abbastanza palese perché la SPAL nel momento in cui ha avuto la certezza che sarebbero arrivati i soldi di secco è andata dritta su Lamantia. Dopo un mese in cui ci ha riflettuto ha lavorato anche secondo me abilmente nel far arrivare al giocatore la volontà di provare a prenderlo anche l'ultimo giorno. Se poi però Lempoli ti dice guardate che noi in attacco siamo messi male di fra e mezzo zoppo, abbiamo già venduto Mancuso, non abbiamo nessuna voglia di intavolare una trattativa da qui alle prossime sei ore per prendere un altro, ci puoi fare poco perché lì dopo i soldi non sono più un tema i soldi c'erano, la volontà c'era, l'accordo col giocatore probabilmente c'era quindi è chiaro che uno dice poi guarda alla fine hai preso la seconda scelta e certo è preso la seconda scelta perché la prima purtroppo non l'ha lasciata partire per quanto riguarda Proia il discorso è un po' diverso e lì Leo mi sento di darti un po' più ragione perché se ci fosse stata una volontà ferrea su Proia probabilmente la spazio sarebbe riuscita a prenderlo e invece ha temporeggiato nella speranza che il Vicenza un po' affondasse nella melma dopo la partita con l'Alessandria trovandosi costretta a dar via il giocatore ma che lo desse via anche a condizioni favorevoli cosa che poi alla fine non ha fatto del tutto perché mi pare di capire che il Brescia l'abbia preso ma con un diritto di riscatto o un obbligo non devo ancora capire è comunque pari alla cifra che hanno speso in estate per trasferire il bagnato però due robe orla io vorrei tornare su quello che ho detto a parte il fatto sulla partita dell'Alessandria che il Vicenza ha vinto e quindi l'Alessandria ha perso per una cappella di coccolo dopo tre minuti che è entrato davvero? Non ho visto questa cosa in uscita sì è entrato dopo tre minuti c'è stato un cross alla sinistra sul gol di Dio di testa Dio si è letteralmente mangiato coccolo infatti non avevano fatto quasi tutte le testate ho visto il gol ho visto il gol di Dio che è stato un gol pregevole però non avevo fatto caso che avesse saltato in testa coccolo grazie ha fatto un gran gol Dio il gran gol l'ha fatto però sì diciamo che tutte le testate dell'Alessandria gli hanno impiazzato un bel 4,5 all'esordio quindi direi che insomma qualcosa in uscita alla spalla di Bolo l'abbia fatto a parte questo che non sarà più un problema nostro e neanche della spalla tu prima hai parlato comunque di un'intelaiatura solida dopo anche la vendita di SEC adesso io non vorrei dire una cavolata perché stavo provando a fare un check adesso ma purtroppo non sono riuscito mentre tu stavi parlando però nel parco attaccanti ad oggi ci dovrebbero essere Finotto, Melchiorri, Colombo, Vido Latte Latte e Dorazio a me se vogliamo inserire tutti questi insomma escludendo Rossi, Mancosu che fanno parte di un reparto di trequartisti diciamo insieme a camciata di questi giocatori mi risulta Finotto con un contratto per l'anno prossimo e basta perché Melchiorri è all'interno di uno scambio con il sempreverde Murgia Colombo è arrivato al Milan in prestito Vido se non sbaglio dovrebbe essere arrivato in prestito anche se conosciamo ancora i dettagli dell'operazione ecco Latte Latte credo che sia in prestito anche lui anzi io sono abbastanza sicuro che sia in prestito su Dorazio semplicemente non lo so non sono riuscito a verificare poi c'era SEC che era di proprietà Episcopo quindi alla meglio qualora Dorazio fosse di proprietà stiamo parlando comunque di basi non così solide perché comunque comunque la si voglia guardare a meno che non ci siano dei rinnovi di prestiti l'anno prossimo c'è un attacco completamente da rifare questo non è il suo gran problema però perché se ti presenti a luglio con le condizioni di mercato giuste il mercato lo fai e lo fai in un mese no no ma per carità cioè io mi riferivo al tuo al tuo discorso sì 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 ho capito non è che ho stati fatti degli investimenti anticipati per non so come prima ho detto che io volevo Vlaovic ma non è che volessi Vlaovic però degli investimenti anticipati secondo me insomma con soprattutto quello che si è incassato si poteva fare qualcosina di più poi sono d'accordo con te se tu mi dici guarda vestendo i panni al giornalista con quello che si è incassato si mette a posto il bilancio migliora l'indice di liquidità la spaltra qualche mese potrà andare sul mercato e fare con un po' più di libertà quello che vuole questo è vero però stiamo parlando del mercato invernale insomma adesso sì sì per carità però voglio dire prima di passare un po' di commenti perché abbiamo una certa sì esatto una certa rassegna mi raccomando guardate anche Sandro altrimenti si non capisco perché ci sia anche un commento no vax ma adesso lo elimino subito perché no ma non c'entra assolutamente niente in questa diretta a prescindere da come la gente la pensi insomma veramente delirante sta roba no volevo dire una cosa e adesso mi è passato di mente ah no sull'attacco Leo nel senso che l'amantia se tanto mi da tanto tornerà argomento d'attualità tra cinque mesi nel senso che alla fine si è capito che la chiave si chiama Di Francesco se Di Francesco fa un giorno d'andata buono quanto un giorno di ritorno buono quanto quello d'andata alla fine si arriverà a a una sintesi per la quale ok ti do di fra tu dammi l'amantia e e poi vediamo quanto a differenza bisogna metterci quindi non voglio sbilanciarmi al punto tale dal dire che l'amantia è rinviato di sei mesi però si è capito che è un obiettivo importante e che probabilmente se la SPAL dovesse come ha detto Tacopina avere ambizioni di alta classifica al prossimo anno è un giocatore sul quale si può andare fermo restando che è un 91 quindi comunque va compirà 31 anni per 32 non è vecchio però comunque entra nella fase diciamo avanzata della sua carriera non finale ma avanzata quindi purtroppo da un lato continuo a pensare che andassero presi i giocatori a titolo definitivo per dare un senso all'organico così come è ora dall'altro capisco l'amarezza di chi si aspettava un po' di più però abbiamo visto anche Meccariello in azione è un giocatore che alza il livello di questa squadra è andato via secoli è arrivato Alfonso tra i portieri adesso c'è un po' più di tranquillità presumo ferma stando che Tiam a mio giudizio rimarrà titolare perché comunque Venturato ha dimostrato di aver fiducia nei suoi confronti in attacco punto di domanda perché ormai è la costante degli ultimi tre anni però l'anno scorso sono arrivati due giocatori fermi da mesi e adesso abbiamo due giocatori che stanno in piedi quindi mi sembra già un progresso allora infatti visto che vogliamo passare un attimo ai commenti volevo prendere un po' di contraddittorio è solo 85 polli mi segnalano che non c'è Sovrani stasera perché non c'è Sovrani ecco ho spiegato tutto il nostro share di così Andrea chiede se non fa un intervento qui adesso glielo chiedo in tempo reale sarebbe bellissimo se riuscisse a collegarsi nel frattempo vi leggo un po' di commenti abbiamo Cristiano Mazzoni che è anche nostro collaboratore che giudica come un buon mercato certo per la Champions ci manca ancora qualcosa d'altronde i palati fini sono obitevati a ben altri palcoscenici criticoni questo è il primo augurio che ci è arrivato abbiamo un altro commentatore che è Giancarlo che lui commenta con un mercato da 7 Proia non è un fenomeno questo lo si è visto a Vicenza dove non era titolare Spal migliorate in ogni reparto con grande abbondanza in tutti i ruoli e questo non è un aspetto secondario visto che da qui al 3 di marzo si giocheranno una roba come 8 partite cosa che Gazzoni ha sottolineato tipo 3 o 4 volte nel suo intervento proprio tra l'altro da Sovrani ogni discorso quindi si vede che questo aspetto deve aver pesato comunque anche in questa volata insomma volata che poi è metà campionata Giorgio dice invece scusate quando siamo andati in Serie A la squadra era tutta di prima scelta Venturato a Cittadella facendo svariate finali per la A che squadra aveva riflettiamo quindi un invito la riflessione viene anche citato Venturato come miglior acquisto da Alessandro e poi direi che a un altro Alessandro Alessandro D'Agostino dice che Vido è forte saluto Enrico Baroni il nostro collaboratore che si è appena collegato ciao Talpo ciao Talpo e direi che di carne al fuoco ne ho messo quindi se avete voglia di rispondere a qualcosa sì sì Cristian ci segnala che Sovrani è ospite a Sky Calciomercato non so se è vero però penso di no e quando la SPA non gioca Sovrani non fa la trasmissione dice Franco Pivati e beh però stasera era la serata buona era una bella serata ce n'era da dire comunque gli ho scritto a Sandro ho scritto a Sandro e per il momento mi ha risposto con quattro punti interrogativi mandagli il link e così lo apre e poi compare mi diti muto chiamalo e mandagli il link basta cliccare sul link e viene con noi comunque andate avanti sì volevo solo rispondere a quanto aveva detto la Polli leggendo i commenti che sì alla fine sono tutte valutazioni soggettive perché nessuno qui sta dicendo neanche chi come me è stato un po' più critico che la SPA ha fatto un brutto mercato oppure che non è arrivato quello che serviva oppure che la squadra ne è uscita indebolita non è questo il punto si sta facendo un'analisi ragionata su quello che si poteva fare e quello che alla fine è stato fatto poi io penso che se l'obiettivo come ormai è stato detto e ridetto in tutte le salse è quello della salvezza insomma non mi sembra che la SPAL abbia attualmente una rosa inadeguata raggiungere questo obiettivo se uno mette giù i nomi per i ruoli ha due barra tre giocatori per ogni ruolo quindi insomma e poi anche giocatori validi insomma per la categoria è qualcosa che sicuramente fa comodo poi se dovesse arrivare la mantia veramente tra qualche mese ben venga insomma allora nel frattempo comunico al nostro pubblico che abbiamo l'ok di sovrani quindi tra un po' collegherà sovrani con noi che meraviglia queste cose completamente improvvisate ok che finiamo tra mezz'oretta quindi che non si metta la giacca la cravatta che finiamo tra mezz'oretta intanto qualcuno mi dice che io mi muovo di continuo non lo so vabbè sovrani è stato venduto anche lui no Alessandro è ancora qua te lo posso confermare stiamo messaggiando adesso no scusate prima che arrivi Sandro che ha chiesto dieci minuti per pettinarsi comunque parrucco no vabbè con quella chioma è un professionista ragazzi è un professionista vero da 40 anni in tv ragazzi no scusate parliamo di un argomento caldissimo perché sono due gli argomenti caldissimi a mio giudizio c'erano tre uno la punta e tutta questa roba ok Sec al Torino e i ragazzi del Vivaio venduti oggi partiamo da Sec al Torino che valutazione diamo a questa operazione perché se non sbaglio due settimane fa io avevo chiesto a Leo se ti danno due milioni e mezzo tu lo vendi Sec tu cosa mi avevi detto di sì ecco e alla Spal ne hanno dati di più perché adesso le fonti sono in conflitto ma nella peggiore delle ipotesi si sta parlando di tre milioni no scusate di 4 milioni e due tra cifra sicura e bonus e nella peggiore e nella migliore si parla di 5 milioni da lì poi vanno scorporati i ragionamenti che riguardano i due ragazzi del 2004 che sono stati ceduti al Torino perché quella è un'operazione separata la Spal ha fatto bene perché poi qui il tema è quello attavico meglio l'uovo oggi o la gallina domani la Spal ha detto meglio l'uovo oggi perché sulla gallina domani non ne abbiamo tantissime vai Polli vai pure no io volevo portare qualche commento dai nostri spettatori Stefano dice che secondo me con sec abbiamo fatto un affare quando doveva tirare passava quando doveva passare tirava non ha fatto tanto dai per quei soldi hanno fatto più che bene e direi che io mi trovo potrei essere io perché perché mi sa che hai il microfono che ha portato la cerniera oddio grazie Polli però ci sono fatto il tipo nel direttore questo concetto scusate non sapevo come muovermi è migliorata la situazione sì ok attimo ok e mentre cerchi gli altri commenti Polli direi che sì secondo me per quella cifra lì sicuramente la spalla ha fatto un affarone anche perché coincidì tu orla non c'è la certezza che domani sec esploda calcisticamente faccia il disastro c'è da capire e questo non ho ben capito io sinceramente se è confermato o meno il discorso della futura plusvalenza sulla 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 percentuale volevo dire di rivendita futura se è una cosa confermata questa è un'indiscrezione che è passata oggi che non siamo ancora riusciti a confermare ma pare sottolineo pare a titolo proprio ipotetico che ci sia questa clausola all'interno del contratto di sé che tra l'altro è una clausola che le squadre emettono molto spesso quando vendono giocatori giovani cioè sulla percentuale relativa alla futura rivendita quindi mettiamo che sec faccia sei mesi da fenomeno a torino e il torino lo venda 10 milioni e la spalla avrebbe diritto a una percentuale che potrebbe arrivare a quanto pare si dice in giro fino al 20% però ripeto questa è una cosa non confermata è arrivata oggi stiamo cercando di verificarla certo è che avrebbe molto senso eh aver inserito questo tipo di clausola perché quantomeno ci si protegge in parte dall'eventuale esplosione al giocatore ricordiamoci che Vagnati quando decise di cedere Gomis inserì una clausola del genere infatti la spalla ha beneficiato poi dalla cessione successiva di Gomis al Ren quindi vediamo vediamo perché SEC rappresenta una scommessa ad alto potenziale ad alto rischio perché poteva rimanere qua diventare una stella della serie B come non essere mai in grado di esprimere il proprio potenziale sapevamo però dalle informazioni a disposizione che Venturato gradiva il giocatore nel senso lo trovava utile ai suoi piani e riteneva che potesse avere un ruolo importante però d'altra parte se arriva una squadra di serie A e ti fa un'offerta di quel tipo è un po' complesso dire no insomma abbiamo visto in tante altre occasioni adesso non vado a memoria ma credo che questa sia la cessione più remunerativa in assoluto della stagione di serie B di quest'anno o una delle più remunerative e questo è tutto dire un giocatore che ha presente sì appunto Mattia dà ragione alla teoria della inespressione del suo potenziale dicendo che SEC era una gallina mai tornando al discorso dell'uovo oggi e della gallina domani ragazzi il bello il brutto del calcio è proprio questo nel senso che la storia di Moro che purtroppo si finisce col rimpiangere in alcuni casi qui a Ferrara Moro è stato acquistato dal Sassuolo oggi per 4 milioni più 2 di bonus mi pare da aver capito dopo aver fatto 20 gol in 20 partite di serie C ma Moro cioè non sarebbe mai riuscito a valere tutti quei soldi se fosse rimasto alla spalla la quotazione di Moro deriva da una serie di fattori casuali che spiegano perché il mercato è una roba fuori di testa perché Moro non viene riscattato dalla spalla in una fase in cui la spalla non ha i soldi perché era metà giugno e i colombarini avevano detto no assoluto spendere i soldi per Moro e allora cosa fa va al Padova e il Padova dice sì ma abbiamo attaccanti più esperti quindi usiamo gli attaccanti più esperti Moro lo mandiamo a Catania a fare le ossa e Moro va a Catania e fa 20 gol ma è stata una serie di eventi casuali a generare il suo valore nel caso di SEC cosa ha generato il suo valore l'idea che possa diventare un giocatore molto forte lo è attualmente no ha dimostrato qualcosa per come dire convincerci che questo accadrà no si va a scommettere sul suo valore quindi purtroppo il mercato è una roba strana invece c'è un commento di Marcello Ragazzi che ci invita anche al al prossimo mini topic che avevamo comunque in programma che dice un attimo che l'ho perso ma i soldi incassati dove sono finiti anche il settore giovanile ne esce ridimensionate non poco ecco questo sì il settore giovanile nonostante sia stata fatta comunque qualche operazione in ingresso con dei giocatori più o meno sconosciuti intanto vedo che si sta collegando Sandro che ci senti Sandro ciao Sandro buonasera a tutti ciao Sandro è collegato con noi la presuna perché non hai fatto la commissione stasera perché ci siamo dati una sorta di consuetudine nel momento in cui la Spal non gioca il weekend ci prendiamo alcuni giorni di riposo come io ho fatto in questo periodo me ne sono andato a sciare vi dico la verità credevo fosse in sciopero perché la Spal non aveva preso la punta da gol ah la punta la punta mi ha preso arrivare sincera non posso essere arrabbiato per questo perché al tirar delle somme Stan no ti sei scollegato Sandro no avevo visto che la connessione era un po' instabile traballante era un po' traballante cacchio quindi che si sposti proprio vicino al router eh sì eh aspetta allora intanto ditemi se ci sono dei commenti che eh sì sì siamo una serie di saluti a Sandro e a testare avevamo fatto un momento di altissimo di altissimo spettacolo eh Sovrani è tornato a tavola scrive Mauro Malaguti ma io Sandro a pagare la bulleta del telefono prima di aggiungerlo di nuovo vediamo se riusciamo a collegare Sandro nonostante i problemi tecnici Sandro sei sei di nuovo con noi forse bisogna cambiare wifi Sandro eh sì niente non riusciamo a collegarci con Sandro Sovrani eh peccato poteva essere qualcosa di memorabile quello che stavamo facendo facciamo un po' di mescola delle carte in diretta da Sanremo con poca connessione scrive alle cittadine eh no mi dispiace perché volevamo volevamo la sua la sua opinione su questa sessione di mercato che si intuiva dalla sua premessa era lievemente critica già quando gli hanno minato la punta è partito è partito esatto è partito in tromba gli serve il wifi gli dice che non ha la fibra di Ibra e quindi eh allora no scusate mh torniamo sul discorso del bilancio perché è importante eh Patrizio Rossi fa una cosa che che dovremmo fare noi cioè dare questa risposta sono finiti i soldi è chiaro come pensate si possa risonare il bilancio se non quei soldi che incassi dal mercato il tema il tema è questo cioè che non dobbiamo dimenticare che la spalla è ancora aspetta l'ultimo tentativo con Sandro Sandro ci sei sei con noi eh ho provato a cambiare la wifi ora vado con la wifi in precedenza andavo con la linea eh facciamo il tentativo prego no no ma adesso ti sentiamo benissimo ma niente stavamo appunto parlando del discorso della punta diciamo che la punta non era indispensabile a parte queste battute che ci siamo fatti da alcuni mesi a questa parte e pensando quello che è l'obiettivo che la società ha dichiarato di voler perseguire in questo campionato quindi sotto questo profilo non ci lamentiamo è arrivato Vido un surplus anche perché poi il ragazzo è arrivato in prestito quindi non è nemmeno detto che la linea non regge non regge la linea peccato allora un attimo che stavamo parlando del bilancio stavamo parlando del bilancio nel frattempo mentre parlava Sandro e mentre stavamo studiando le risposte sul bilancio vi annuncio che è arrivato un messaggio di Giotta Coppina in persona perché prima di iniziare la diretta gli avevo scritto no Sandro vai e viene ragazzi è un casino sta diretta stasera Giotta Coppina vi do la risposta in tempo reale ragazzi questa sera sono tutte la risposta a quale domanda però la domanda ha detto saresti disponibile a rilasciare un commento su quanto fatto dalla spazio sul mercato di gennaio perché insomma si sta discutendo molto delle mosse Giotta Coppina mi scrive siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto sul mercato abbiamo decisamente migliorato la squadra e siamo molto seri sulle nostre possibilità di competere ad alti livelli già quest'anno attenzione a questa frase per quanto riguarda la vendita di SEC riceveremo 4 milioni di euro per un giocatore che ha grande potenziale e speriamo che lo possa realizzare altrove anche perché questo ci porterà una larga percentuale della sua vendita futura quindi ecco la conferma che aspettavamo sul fatto che la SPAL riceverà una percentuale sulla futura di vendita di Demba SEC per adesso continua Tacopina nel modello di Venturato nel modulo tattico di Venturato non aveva la possibilità di giocare da titolare a causa delle sue caratteristiche e Vido da questo punto di vista è una scelta migliore quindi crediamo di aver migliorato molto la squadra e soprattutto aver incassato soldi che ci permetteranno di investire per migliorare la squadra durante la prossima estate in ogni caso continua Tacopina sono dell'idea che questi acquisti ci abbiano reso più forti questo questo è il commento di di Giotta Copina che ne pensate a caldo ditemi voi e poi lo chiediamo anche a tutti quelli che ci stanno seguendo ovviamente cosa pensano di queste parole di Giotta Copina che tra poco trascriverò e pubblicherò al suo spallino ovviamente vai Polli chiaramente non poteva che dire di esserne soddisfatto perché ricevere un sono insoddisfatto dal presidente sarebbe stato un messaggio abbastanza preoccupante mi lascia sempre un po' perplessa il suo slancio verso la competitività ad alti livelli già dal primo dal primo momento quindi sono un po' promesse che vengono da lui rimarcate e risottolineate da inizio campionato e ancora non abbiamo visto secondo me i risultati millantati spero che la tendenza si inverta e che potremo dare ragione a Giotta c'è c'è un tentativo di connessione di Sandro Sovrani e adesso tanto vale riprovarci ci teniamo ad averti qua con noi ti abbiamo coinvolto all'ultimo minuto e ti vogliamo qua con noi ho ricambiato ancora tutto speriamo questa volta vada molto meglio quindi ora secondo me ti informo che Giotta Coppina dice che è molto soddisfatto di questa sessione di mercato vorrei anche vedere che lui dicesse che non è soddisfatto no ma adesso a parte le battute a parte gli scherzi quello che penso io in assoluto è questo la squadra si è rinforzata rispetto all'organico precedente in difesa sono arrivati due giocatori ricchi di esperienza sono stati coperti due tasselli che le regioni di andata hanno dimostrato di avere assoluta necessità di essere inseriti perché Ditko Dickman chi c'era abbiamo visto nel momento in cui si doveva fare i conti con l'indisponibilità o di Vichari o di Capradossi che alle loro spalle non c'erano ancora giocatori pronti ora sono arrivati due elementi al Mici che ha centinaia di partite in serie B non parliamo poi di Meccariello che ha già dimostrato quello che potrebbe essere uso ancora una formula leggermente dubitativa il suo valore e quello che potrebbe essere il suo apporto da qui alla fine della stagione a centrocampo si cercavano due interni sono arrivati due giocatori di categoria mancano gli uomini che possano fare la differenza però qualcosa è migliorato sul fronte offensivo è arrivato Finotto un giocatore molto stimato da Venturato che è adatto un po' a quelle che sono le idee tattiche del nuovo allenatore della spalla e poi è arrivato Vido non è arrivato l'uomo gol questo è inutile nasconderla se poi vogliamo andare ad affrontare altre tematiche ci sono quelle relative al fatto che molti di questi giocatori sono arrivati a Ferrara con la formula del prestito quindi a luglio ci saranno tantissime cose da rivedere perché praticamente la spalla è se si fa eccezione per Finotto senza attaccanti perché anche Vido è arrivato con la formula del prestito Merchiorri Rossi sono tutti giocatori che sono in scadenza di contratto quindi ci saranno tante tante cose da tanti conti da far tornare passi indietro per quanto riguarda il portiere si è deciso di dare fiducia a Tiam è una scelta che si può anche condividere il ragazzo ha ritrovato tranquillità serenità e forse questi possono essere elementi fondamentali per il suo rendimento però la società si è cautelata inserendo un elemento esperto conosciutissimo anche in questo caso da Venturato quale Alfonso c'è da dire che in questo mercato tanto ha inciso Venturato che non potrà certamente lamentarsi nel caso in cui qualcosa non funzioni al meglio perché quasi tutti i giocatori sono già stati allenati dall'ex tecnico del Cittadella la partenza di secca a mio giudizio ci può stare in particolar modo se sono arrivate cinque di questo tipo non ricrimino la sua partenza considerando gli trenoiti che il Torino dovrebbe avere garantito alla società agli effetti tecnici secondo me sposta poco la sua partenza non so se tra qualche anno questo ragazzo mi auguro che le cose possano andare nel verso giusto potrà realmente garantire quell'apporto che si aspettano Cairo e Vagnati altro discorso la concorrenza ha fatto ben poco si è mosso molto bene il Vicenza anche se ha ceduto Proia al Brescia però più 11 sul Vicenza non voglio nemmeno pensare lontanamente al fatto che il Vicenza possa recuperare tutti questi punti sulla spalla qualcosa ha fatto il Crotone ma nulla di trascendentale per cui alla luce di quello che è successo nel giro di andata di quelle che erano le forze in campo già prima del mercato penso che la spalla si dovrebbe adesso qualcuno dirà toccaferro fatelo tranquillamente fate qualsiasi cosa scaramantica perché lo sono un po' pure io dovrà tranquillamente salvarsi se non dovesse andare in porto e non dovesse essere raggiunto questo obiettivo dovremmo parlare di un fallimento non certamente della società la società l'aspettiamo nel mercato di luglio vedremo se e Taccopini rispetterà quelle che sono state le sue promesse ovvero già dall'anno prossimo cercare di allestire una squadra in grado di puntare al playoff diciamo che alla promozione ci dovrà puntare assolutamente tu Sandro sei fiducioso che ci siano effettivamente queste risorse per poi in estate prendere qualcuno e fare una squadra a che domande mi fai se le risorse le avessi io ti direi sì questa sera vado a donne e quindi va a quel paese non volevo ne Martina la spalo o vado a Monte Carlo o mi compro uno iote non posso sapere cosa passa nella testa di Gioita Coppina ma diciamo anche un'altra cosa non sono sufficienti le risorse garantite dalla cessione di sec per poi l'anno prossimo a gestire la squadra in grado di puntare alla promozione diciamo che potranno essere utili per la gestione ma non sono sufficienti queste 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 risorse per cui veriferiremo nel frattempo se Gioita Coppina o direttamente con sue risorse oppure con soci che sappiamo sta sempre ricercando forse ne potrà anche avere individuato o trovato qualcuno sarà in grado di dare la scalata alla Serie A che ci auguriamo possa arrivare entro le prossime due stagioni facciamo comunque anche un passo indietro un passo ritroso cosa sarebbe successo qualora non fosse arrivato Gioita Coppina questo non non lo sappiamo cosa succederà a due o tre anni se la spalla non andrà in Serie A anche questo non è dato sapersi ci sono tanti è un po' troppo lungo guardare un po' un po' davanti l'unica tranquillità che personalmente ho che quest'anno con questa quadra non correremo pericoli dovrebbe saltare il banco ma non sembra essere questa la situazione ma Sandro nella dichiarazione che Tacopina ha accettato di lasciare poco fa dice io sono dell'idea che con questi acquisti possiamo competere a un buon livello già quest'anno è una frase che ha già detto in altre circostanze secondo lui la squadra non era da salvezza ma era da obiettivi migliori tu ci credi a questa cosa o è una valutazione un po' da ottimista americano cioè tu ritieni che la squadra così come è composta adesso con la varietà che adesso possa riuscire a inserirsi non dico miracolosamente nella lotta playoff ma magari a contendere un posto no ok no perché il distacco è tale per cui non vedo come si possa a me piace un sacco quando Sandro si infervora mi chiedete un paniere o un'opinione allora io dico che la SPAL antemercato si era venuta a trovare la posizione che rispecchia fedelmente i valori delle varie squadre salvo qualche sorpresa in positivo qualche sorpresa in negativo mi stupisce molto questa ultimissima posizione del del Vicenza quindi la ritenevo inferiore anche a quelle alcune squadre che la precedono vedi la Perugia vedi la Ternana vedi la stessa Regina anche se lì a Reggio c'è si dice un grande caos societario guardando i nomi sulla carta la realtà era questa oggi diciamo che la SPAL può competere con questo gruppo di squadre ma non vedo la possibilità per i biancozzurri di agganciare la zona a playoff anche perché torniamo al solito discorso bisogna metterla dentro la SPAL non ha uomini gol Colombo sta attraversando una fase involutiva come ad esempio Lucca nel Pisa sono ragazzi giovani sono ragazzi ai quali chiedi di giocare 38 partite più chiedi di giocare le gare dell'under 21 ma sia mentalmente che fisicamente un ragazzo di 18 19 20 anni prima o poi paga questo impegno il calo è fisiologico poi anche altre situazioni gli avversari iniziano a conoscerti sanno benissimo che ad esempio Colombo quando vedi che prende palla devi cercare soprattutto di chiudere lo spazio per andare a calciare con il sinistro tanto per fare un discorso tecnico per cui non possiamo pensare che Colombo ci garantisca 15 20 gol allora ditemi voi e compreso Finotto e compreso Vido chi può assicurare questo salto di qualità in zona gol a meno che non è arrivato nemmeno Proia a meno che Zanellato non faccia 7 gol come ha fatto Proia a Cittadella però qui stiamo parlando di opinioni pareri è chiaro che se poi tutto gira nel migliore dei modi ce la puoi anche fare ma la vedo dura intanto pensiamo a girare veramente tutto vuol dire che ogni cosa che succede ti deve andare bene come noi diciamo abbiamo 11 punti di vantaggio su Vicenza come possono questi agganciarci come possiamo pensare noi di metterci a correre con questa che è una buona squadra diciamo che se questa squadra fosse partita all'inizio stagione con questo organico oggi probabilmente saremo qui a dire bisogna prendere una punta perché a quel punto possiamo arrivare nel gruppo delle prime ecco e la vicenda Proia invece come la vedi può avere tante chiavi di lettura lo stesso Vicenza potrebbe avere ipotizzato di rinforzare un avversario perché eventualmente a Vicenza possono ancora pensare di puntare di agganciare la spalla Vicenza potrebbe aver chiesto questo non lo sapremo mai perché noi non siamo lì delle cifre sulle quali la spalla non è arrivata come non sappiamo mai il discorso con l'Empoli per quanto riguarda la mantia come in realtà è andato se il Vicenza ha ceduto Proia al Brescia le chiavi di lettura sono queste le due lì o perché il Brescia ha offerto più della spalla o perché il Vicenza ha detto non è una questione di moneta o di moni se vogliamo parlare all'americana ma è una questione o di maioc esatto se vogliamo dirla in modo nostrano dirla in modo nostrano non diamo questo giocatore alla spalla finito quante volte ci siamo ramaricati ricordo nei tanti anni in cui abbiamo seguito la formazione bianco-azzura di aver ceduto un giocatore ad una rivale poi guarda lì questo giocatore hanno fatto meglio di noi ma gli esempi nel calcio di questo tipo ce ne sono milioni 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 non ultimo mi viene in mente la strepezza aspetta Sandro ti interrompo un secondo dico una cosa al volo ma voi il volo anche se volete no ma là Sandro resta qua con noi che ci stiamo divertendo allora Tacopina dice che due ragazzi del settore giovani sono stati venduti e non tre credo si riferisca al fatto che Gineitis è stato seduto al Torino e D'Andrea al Sassuolo ma Dell'Aquila è rimasto qui e non è ben chiaro che tipo di accordo sia stato fatto domani ne sapremo di più però Tacopina specifica uno di loro era un grosso grosso problema aveva un caratteraccio non so a quale di due si riferisse però la sua giustificazione tra virgolette sta qui insomma sul fatto che questi due ragazzi sono stati venduti Sandro stavi dicendo di strefezza dei rimpianti diciamo così all'indietro ti fermo ti fermo io a priori a priori non ho rimpianti di sostrefezza non ho capito neanche io in realtà ma è un'opinione è un'opinione impopulare è un'opinione impopulare a posteriori faccia dire ah ma io gli ho detto no no io quest'estate quando schiaffese è stato ceduto secondo me è un giocatore del quale ti puoi privare così come era stato per Murgia era stato parzialmente per Di Francesco su Di Francesco il discorso era economico diciamo non può permettersi di tenere questo giocatore poi c'è sempre l'incognita degli infortuni però a luglio io non mi sono strappato i capelli per l'accessione di strefezza come non mi strappo oggi i capelli per l'accessione di secco mi sarei arrabbiato questa sera se la SPAL avesse portato a termine quella trattativa che mi risulta sia stata intavolata con il Brescia per gli viani questo quello è un punto mi avrebbe fatto molto molto arrabbiare poi non so il perché non so nemmeno fino a che punto Cellino Zamone Tarantino abbiano approfondito questa questa trattativa però so per certo che è una trattativa con il Brescia anche perché poi era da 15-20 giorni che Cellino bussava alla porta della SPAL parlava mi risulta anche direttamente con Tacopina per quanto riguarda Viviane questo mi avrebbe fatto veramente imbufalire perché nel corso di questo campionato il giocatore più importante a disposizione prima di Peppo Crozzette ora di Roberto Venturato se proprio l'anno scorso ci saremmo messi a ridere probabilmente Sì sì ma guarda che io ero tra i fustigatori di Viviane calcisticamente gliene ho dette di tutti i colori non lo potevo vedere però quest'anno si dimostra il giocatore più importante a mio giudizio nella scacchiera bianco-azusa questa è la realtà avrei rimpianto o meno un'eventuale eccessione di Esposito anche se qui giustamente si può dire ci sono parecchi anni di differenza tra i due Esposito potrebbe essere un giocatore importante per il futuro ma se per questioni economiche gli fosse stato detto chi sacrifichiamo io avrei detto mi tengo Viviane e fra tempo i nostri commentatori scrivono Viviane non è andato a Brescia perché segue tutti i mercoledì le dirette dello Spallini con un profilo fake e Fabrizio scrive Viviane non sblocca Orla finché non sblocca Orla non si muove da Ferrara è arrivato un commento scusate che trovo molto interessante Sandro perché noi trascuriamo il fatto che a inizio di questo mese la Spalla ha cambiato allenatore l'ha cambiato non dico a sorpresa però diciamo siamo stati colti un po' in contropiede quando è successo beh a sorpresa penso che si possa dire che è stato cambiato più per la tempistica sapevamo che c'era qualche frizione ma non ci aspettavamo che si arrivasse a questo punto Giorgio dice cosa ne penserebbe Clotet di questo mercato perché una delle ragioni delle separazioni tra Clotet e la Spalla mi risulta ossia appunto la lentità degli interventi che si sarebbe dovuto fare a gennaio ora che la Spalla ha preso 8 giocatori mi viene da pensare la stessa cosa che penso Giorgio cosa ne penserebbe Clotet di sta roba Sandro tu come la vedi da questo punto di vista ma sai intanto non è un problema numerico perché se tu mi avessi detto prendo 3 giocatori da Champions League un difensore un centrocampista un attaccante io sarei stato ben felice perché avrei detto in un modo o nell'altro chi gira attorno a questi 3 finirà per fare la sua bella figura si tratta di capire il valore di questi giocatori come detto in precedenza a mio giudizio la Spalla è migliorata poi dobbiamo capire quali sono le richieste di classifica della società perché ripeto se l'obiettivo è salvarsi tranquillamente io metto la firma su questa campagna queste cessioni senza coppina adesso inizio a dire guardiamo i playoff e dico faccio il Pep Cotter della situazione non ci sto non so Venturato che tipo di risposta potrebbe dare il merito non vediamo l'ora di chiederglielo sì ma poi non ce la dirà mai sta nel gioco sta nel gioco delle parti almeno non quella che pensa veramente esatto certo è che la maggior parte di questi giocatori a mio giudizio mi sembra di dire sono più quelli che Venturato ha conosciuto direttamente che quelli che ha visto solo sul campo quindi come detto in precedenza Venturato ha inciso tantissimo in questa campagna acquisti e sono d'accordo visto che ci sono molti giocatori contrascorsi lei vuole dire qualcosa ho visto che scalpitavi no sì che nella dichiarazione non so io sto continuando il mio filo diretto con Joe perché avevo molte domande da fare gli sto approfittando tipo alcuni dei commenti li sto prendendo li sto copiando nella chat con Joe a sto punto potrei far collegare anche lui già avevamo detto di dare il link di Fanta Sanremo no effettivamente non so Sandro se tu ti hai ricollegato in tempo prima quando Ordo ha fatto i commenti vabbè comunque in buona sostanza quello che ha detto è già stato riportato però mi sembra sempre che le dichiarazioni venite a coppina vadano sempre bene fino a quando non faccia la sparata grossa oppure la sparata che non dico che faccia perdere credibilità a tutto il resto che sta dicendo perché non è così però sentire dire oggi che questa squadra possa già lottare come aveva detto anche non so se ti ricordi in una delle primissime interviste che ha fatto qua cioè la Serie A ci proviamo l'anno prossimo quest'anno la salvezza però anche già da quest'anno proviamo a fare qualcosa ecco questa è la cosa che io apprezzo poco cioè non non dico voler prendere in giro perché non è di questo che si tratta però questo voler per forza buttare alzare l'asticella anche quando oggettivamente non c'è la possibilità e quando credo che tutti i 250 che sono collegati adesso compresi noi sarebbero molto più contenti di sentire dire guardate questo è quello che facciamo quest'anno e basta ci accontentiamo gettiamo le basi e poi andiamo avanti cosa dici Sandro? ma sai io dico questo dobbiamo pensare alla differenza di mentalità che abbiamo noi italiani noi e si passa il termine provincialotti perché siamo provincialotti noi ferraresi rispetto alla mentalità di un new yorkese siamo siamo esattamente agli antipodi è come dire Italia e Australia un tipo di mentalità quindi è un po' un modus vivendi questo degli americani di parlare facendo quelle che noi tra virgolette definiamo sparate cioè loro sono sempre improntati all'ottimismo sono sempre improntati al sorriso sono sempre improntati alla pacca sulla spalla quindi secondo me non è che Tacopino voglia fare l'incantatore di serpenti tutto sommato ma è il suo modo di fare poi noi ovviamente andiamo a fare le nostre debiti e valutazioni e ci meravigliamo di questo tipo di atteggiamento cioè è un atteggiamento un comportamento che probabilmente negli Stati Uniti non provoca nessuna ripercussione a differenza di quello che è il nostro modo di rapportarci e di vivere non dico il nostro modo ferraveso ma è già il nostro modo italiano diciamo che dalla sua ottica ci sta dalla nostra si fatica a condividere questa realtà poi alla fine sempre dei fatti si parla non è che parliamo di due fatti diversi esatto io sin dall'inizio quest'anno dissi ma qui è importante fare un campionato decoroso un campionato tranquillo ci eravamo illusi dopo quelle goleade tra Pordenone e Vicenza poi passate alcune settimane ci siamo poi resi conto del perché la SPAL era riuscita a portare a casa questi sei punti a Polito ci avviciniamo proprio a questo a questi due trasferte che potranno incidere tantissimo nell'economia complessiva del campionato della SPAL in particolare di questo gironi di ritorno se la SPAL qui farà sei punti ecco che magari potrà iniziare a guardare se sto dando un'occhiata alla classifica l'ascoli che è ottavo ne ha ne ha 32 recuperare dieci punti poi non è un problema solo di recuperare punti sull'ascoli ma la SPAL dovrebbe poi scavalcare la regina come fai perché perde una vince l'altra perché se si gioca a Como Parma se vince il Como cioè se perde il Parma vince il Como quindi è vero è vero riflettendo un po' in con un pizzico di di serenità insomma cercando di essere i più obiettivi possibili non andiamo a raccontarci queste queste favole anche per non mettere pressione avventurato ai giocatori se poi la SPAL dovesse trovare un filotto ecco che a quel punto ci si può porre si può alzare l'asticella meglio l'asticella desidero pretendo voglio che venga alzata a partire dal mercato di luglio a meno che la società non ci dica signori guardate l'importante è essere sinceri esatto non vorere insomma non siamo mica poi nati con con l'anello al naso a Ferrara anche se rispetto a New York siamo i provincialotti no per cui se a luglio la coppina viene e ci dice quello che ha detto negli ultimi mesi no da ottobre novembre quando ha visto che la situazione stava un po' tecnicamente a livello di classifica ingarvuliandosi nostro obiettivo quest'anno è la salvezza perfetto ad agosto si dirà purtroppo le cose non sono andate come speravo dobbiamo contentarci di un'altra stagione dignitosa mi sta bene mi sta bene mica però non venirmi a dire vogliamo vincere il campionato poi non mi riscattica pradossi sto facendo un po' di fantacalcio mi cedi Viviani non mi prendi un giocatore o due che mi possano garantire 25 gol insieme c'è uno da 15 uno da 10 non mi prendi un centrocampista con certe caratteristiche ma come fai a raccontarmi queste cose io penso che se Venturato ha accettato il composto di Tacopina abbia ricevuto delle garanzie e delle assicurazioni in caso contrario credo che non avrebbe accettato la panchina beh ci sta ci sta questa è la mia idea a parte che poi Venturato è un tecnico che ha tanto credito nel cambiamento di Serie B che nel caso in cui arrivasse a luglio e si rendesse conto che le cose non vanno come probabilmente Tacopina gli ha promesso e garantito saluterebbe suo malgrado e anche Mariko da parte nostra visto che è un allenatore che abbiamo inseguito da tanti anni e la compagnia mi inserisco un momento nel discorso ormai stiamo andando verso la chiusura con delle domande per te Sandro perché c'è della grande curiosità esatto non so se vi ho detto i commenti probabilmente no però la metà sono per te praticamente quando ti sei gente contentissima che sei collegato con te alleggeriamo un po' il tenore della conversazione portandoti la prima domanda da parte di Alessio che chiede se sei pronto alla trasferta estiva transoceanica ma io sono pronto perché Tacopina ha detto che ritiro si farà di là dall'oceano esatto io sono pronto a tutto è cinque anni il cuore regge e anche Andrea chiede se hai già parlato con Pat per sapere se ti riserva un posto sull'aereo rispondi pure aspetta loro ma poi attenzione non è che poi noi dobbiamo è chiaro che l'ospitalità in questi frangenti è molto gradita bene accetta però potremmo anche dire facciamo un chart noi giornalisti e partiamo mettiamo la quota e via anche Mauro Malaguti infatti arriva del fuoco amico perché Mauro Malaguti dice domandategli dello stinco e quindi no allora io ho mangiato uno stinco Malaguti si è mangiato uno stinco da solo no anche non faccio poi tanto tanto il pulpo poi lui si è bevuto mezzo litro di vino rosso io sono andato anche poi non andiamo poi io ho sciato tutto il giorno lui se ne è stato tutto il giorno io ho messo così in panciallo ma me ne sono stato tranquillo oggi non ho nemmeno guardato i tre decuperi della serie ma anche io Mauro Sandro qua mi sa che ti ha ti ha messo a posto ti ha messo a posto avevo visto un commento prima di chi ci chiedeva del tra virgolette closing cioè del passaggio formale che ci deve essere entro la fine di febbraio arriva la ribaduta di Mauro che dice che Sandro però ha mangiato anche il primo è vero io mi avevo sciato 5-6 ore quindi Sandro le calorie le calorie dovevo rigenerare riequilibrare i miei zuccheri ecco per quanto riguarda il closing a me risulta che non ci siano problemi aspettiamo questa scadenza ma Taccopina stesso interpretato sull'argomento una ventina di giorni fa ha detto che è un passaggio tecnico che non dovrebbe causare alcun po' e lui ha detto che ha aggiunto anche che è anche sorpreso del fatto che questa cosa sia discussa dall'opinione pubblica e quindi va bene e una seconda cosa diversi ci sollecitano sul tema del calendario perché dicono si gioca il martedì o il mercoledì 18.30 insomma in giorni feriali con la gente che lavora è una mancanza di rispetto questo è il classico pasticcio della Lega di B mi viene da dire perché è incredibile che la squadra giochi un mese e sempre in giorni feriali scusami se ti interrompo il discorso del 18.30 è una condizione sine qua non posta per evitare solga posizioni con le partite di chiaro quindi praticamente le partite di serie B debbono terminare prima dell'inizio quindi prima delle 20.45 delle 21 l'inizio delle partite delle coppe europee quindi l'alternativa era a quel punto giocare alle 14 alle 15 alle 16 che possono essere ancora più penalizzanti parlando di giù inferiore poi la Spala ha avuto la sfortuna che nel calendario si è ritrovata a giocare sempre in casa il martedì poteva essere una situazione opposta giocare sempre in trasferta il martedì e sempre in casa nel turno del weekend e qui poi si sarebbero aumentati altri perché avrebbero detto ah ma è mai possibile che si debba andare in trasferta durante la settimana adesso per fortuna è stata riaperta la possibilità di seguire le squadre in trasferta almeno c'è questo piccolo dato positivo tra l'altro le prossime trasferte non sono improponibili visto che la Spala giocherà a Monza a Bordenone Monza Parma Vicenza sono tutte quelle esperte che si possono affrontare c'è una domanda ricorrente sulla gradinata che dovrebbe riaprire per Spala Regina da quanto ne so a Gazzoli la scorsa settimana ha detto senza timore alcuno senza timore di smentito alcuno con la Regina la gradinata sarà riaperta ok questo è quello che ha detto il direttore ok ok allora direi che siamo arrivati a un'ora e zero tre di diretta possiamo già cominciare ad andare verso la chiusura intanto ringrazio Sandro che si è collegato così all'improvviso grazie per aver accettato questo nostro invito il telefono acceso visto nessun problema diverse persone diverse persone deve essere una serata tranquilla invece non è stata tranquilla per niente però devo dire Sandro dai commenti tanta gente ha apprezzato perché ha detto praticamente abbiamo avuto una specie di lunedì sport inatteso e quindi bene dai abbiamo reso un servizio te ne siamo grati ecco personalmente ci diamo appuntamento quindi a lunedì sera e beh certo sì lunedì sera lunedì sport appuntamento fisso per tutti gli appassionanti di SPAL e quindi grazie Sandro grazie a voi senza piacere ci vediamo alla prossima conferenza stampa su Skype eh sì su Skype poi ci vedremo domenica domenica a Pordenone perché è qui caos domenica martedì domenica vedi Leo vedi Leo a Pordenone bene bene 16 e 15 di cerario visto che la trasferta è vicina abbastanza anche per i tifosi perché si può partire attorno a mezzogiorno si arriva tranquillamente poi anche alla sera per mangiarsi una pizza prima di di riguardare tutti i gol in tv ragazzi buona serata a tutti ovviamente grazie buona prossima grazie davvero ancora al mitico al mitico Sandro Sovrani e ragazzi ci rimangono due minuti eh per eh il nostro stupido giochino del del mercoledì che oggi viene fatto di lunedì eh anche per qui io devo andare a scrivere il pezzo con le dichiarazioni di Joe allora ricordo che il mercoledì 19 gennaio avevamo prima di di spalpiso avevamo detto la polli ha detto finotto che ha preso il palo eh io ho detto Mancosu che ha preso il palo anzi la traversa e lei ho detto Viviani che non ha fatto un cazzo grande Leo ha preso ma non è vero ha preso sei o sei e mezzo non lo so però comunque ha fatto una buona partita però non è roba da punto va bene non è roba da punto ma neanche la vostra cioè quindi il punto non va a nessunire 05 per il palo non esiste lo 05 dai vabbè 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 adesso non va a nessuno siamo tutti amici io dico fino otto prima che lo dica la polli no ma lo sovi per dire è vero? lo sovi per dire lo sovi per dire lo sovi per dire la prossima partita dopo ancora madonna che casino questo calendario veramente odio queste robe che ogni due giorni ci sarà una partita allora faremo la diretta dopo Spal Pordenone e si gioca Monta Spal no quindi dobbiamo pronosticare una sola partita quindi Leo dice finotto che la controversia è stata ok vabbè a questo punto provo a rilanciare la maledizione su Colombo vediamo se Colombo sono indeciso io sul da farsi sinceramente tutte le volte che ho puntato sul sec non credo di aver fatto punto forse una volta no no non l'ho mai fatto me la gioco in maniera originale e dico Zanellato che è appena arrivato ha preso la maglia numero 10 e io vorrei ricordarvi che è stato l'ultimo ad arrivare a gennaio alla Spal e prendere il 10 e esordire in un certo modo il buon Sergio io sono scettica su cosa? sulla scelta un po' troppo arrogante comunque abbiamo perso 60 persone sta diretta dopo che è andato via Sovrani anche perché il prossimo che abbandona ragazzi sono io perché sono le 10 e le 17 sono a grigio vedete di andare a letto bravo non mi sono a dormire perché oggi è stata una giornata lunghissima quindi i nostri pronostici sono questi andiamo a verificarli mercoledì prossimo questo mercoledì ovviamente non ci siamo in diretta perché abbiamo fatto un'ora e dieci stasera insomma direi che è più che sufficiente tanto col calendario della Spal così intenso ci sentiremo a frequenze regolari e niente ragazzi è stato bello abbiamo improvvisato ed è andata bene ringraziamo di nuovo Sandro Sovrani veramente leggenda e niente dai ci vediamo anche tutte le persone che ci hanno scritto perché vedo tipo adesso 265 commenti purtroppo non siamo riusciti a dare spazio a troppi commenti perché è vero è vero l'ospite aveva la priorità questa sera ci ha monopolizzato l'appunto felici di questo ci rivediamo mercoledì 9 grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta grazie a chi ci seguirà in differita sia su Facebook che su Youtube che sul sito dello Spallino scrivetevi la newsletter scrivetevi la newsletter ho messo il commento da qualche parte nella diretta lo trovate lì ci stiamo attrezzando per provare a sbarcare anche su Twitch giusto per aprire ancora di più i nostri orizzonti vedremo un po' come va la storia a Diego Bertacchini ci dice come sono i nuovi ne abbiamo parlato fino adesso Diego riguardati la diretta e niente a più di noi a più di noi esatto buonanotte a tutti e alla prossima ciao ciao a tutti